Musica Ok questa non doveva essere la seconda parte dell'episodio Ma come avete potuto vedere forse di sfuggita è venuta fuori la scritta che l'aria sta diventando più fredda attorno a me E temo che voglia dire che stia per arrivare il mio amico Skeletron Prime Ho una grande caga perché Skeletron Prime non l'ho mai sconfitto Cioè non ci ho mai provato più di tanto quindi non so come si muove né niente The Twins è possibile che siano anche The Twins Escluderei il Destroyer perché in genere il Destroyer dice che ti sta venendo un brivido da da sotto Sì esatto O almeno in italiano è tradotto così Suona molto molto male però le traduzioni italiane di questi giochi sono così come Minecraft che almeno ha di gioco Qui abbiamo i brividi dal sotto Quindi sarà un episodio molto molto denso Tu cosa fai testa di zombie? Ah c'ha il gel in testa io pensavo avessi una vaschetta per i pesci Sono sempre stato convinto che fosse una vaschetta per i pesci No è uno slime ribaltato su uno zombie Figo Il misteri di terra Eeeh Skeletron Prime Aiuto Oh cacchio Quante mani ha Skeletron Prime? Tipo 8 No non deselezionarti Sì doccia di stifo Cazzo dovevo farlo scusate perché questo qua mi prende le pozioni di mana da solo Ma cosa ho fatto? Ok Sono riuscito a risistemare in tempo Devo star lontano dalla testa girevole perché mi sa che fa abbastanza danno eh Ho il vago sospetto Più o meno shot No no a shottare no Come faccio ad avere 420 di vita? Perché? E perchè stavamo combattendo E' un po' strano avere ancora 420 di vita Ok ho finito il mana E' un po' strano Iniziamo sparo con questo Non so se la state sia migliore si ammirare prima di una mano o qualcosa del genere Io spara un micchio si ne aspetti questa è la tecnica giusta spero perchè io sto facendo così vai vai giù a prenderle cosa ho fatto no 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 sono totalmente rincoglionito corri corri cosa ho fatto non lo so neanche io non lo so e pensa che io lo può guardare ma scheletron premio è stra difficile rispetto agli altri due poi magari se ci fosse anche dei questo non è colpa mia colpa tua no è colpa tua è il tuo marchi che non va questa casa arcopaleno è la nostra trappola anche quando spawniamo i boss ci teletrasportiamo indietro per sbaglio più di una volta ok ok dai una mano sta andando però è vero che sta andando anche il tempo ah lo sai che quando arriva l'alba eh ti sciotta cristo santo sta quasi arrivando l'alba no si comunque me l'avevi accennato una volta già ok io amo la nostra dottoressa dei ok chi non l'ama ok sono un po' male uuuuuh non ho più funzioni di mana è questo che ci sta fottendo mago dimmi cosa hai nel mio posto e andiamo raga mi ti ghiaccio i know we can do it i know we can do it una mano sta andando una mano sta andando lo spari i proiettili io sparo i proiettili mi serve un platino per prendere i vostri ok una mano è andata mi sembra un'altra mano è andata dai va a due mani mi sa o una è una mano vai boh tipo per te dai richiamaci un po' almana non deve arrivare l'alba assolutamente ce la puoi fare eh non lo so se ce la posso fare entro l'alba uuuuuh ma lascia no 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 al pelo ce l'ho fatta fate asportarmi a casa minchia pensavo fosse despaunato non lo vedevo più e fidati che tu è strano non vederlo dopo un po' è gigantesco dopo un po' che ti abitui alla sua presenza si probabilmente la cosa migliore è mirare prima agli arti no la cosa migliore è mirare prima alla testa subito almeno fai fuori subito la testa con te basta ok dai è rimasta solo la testa volante ma è anche vero che è quasi mattina ce la puoi fare io credo in te dai io cannot sto ma cosa ho fatto no sono un totale coglione vai 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 mi rimane 6000 di vita tipo qualcosa del genere dai ce la puoi fare ora non vedo la sua vita 4000 vai 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 2004 è quasi mattina no 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 è fottutamente quasi mattina 1400 4300 mi ha ucciso porca ops cacca dai era morto dei vera fottutamente morta arrivata mattina cristo dio perchè ti ho tolto tutta la vita in un colpo vero? si 9500 si 9500 vai a cagare scheletron prime dei miei coglioni sudati rimorto fanculo ti giuro aveva meno di mille di vita mi sa a cosa mi tocca vedere ho 74 monete d'oro così ok sai una cosa dei mi ha fatto arrabbiare quindi lo evocherò no non fa farlo tutto di me ma nel prossimo episodio oh 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 ciao ciao direi che per questo è tutto se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace anche se ci sono stato solo io purtroppo ma mi dispiace ragazzi se la vi in teoria non ci doveva essere questo episodio stavamo giocando così per i cazzi nostri amaci non funzionano quindi ciao ciao ciao